buongiorno ascoltatori siamo con dottor tata ci parla dei noduli alla tiroide è un sintomo che magari potrebbe preoccupare che cosa che cosa le dicono i pazienti quando vengono da lei dobbiamo partire dicendo che la tiroide capire cos'è la tiroide è una ghiandolina che si trova appena a di sotto della laringe davanti alla trachea prima dell'ingresso della trachea in torace nella parte anteriore del collo e quindi è una funzione importantissima nel nostro organismo in quanto produce dei ormoni che intervengono e modulano l'attività di quasi tutti i tessuti dell'organismo e in corrispondenza di questa ghiandola possono sorgere questa ghiandola può ammalarsi come si ammala ogni organo del nostro organismo e più in particolare la tiroide tante volte è sede di insorgenza di nodulini ok tante volte il paziente si presenta dal medico perché è o in corso di esami fatto per altri motivi o perché se l'è scoperta occasionalmente ha scoperto che di avere un nodulo al collo e quindi va al medico per il nodulo al collo il nostro ruolo cioè quello del medico e del chirurgo è quello di definire la natura di questo nodulo e decidere esistono noduli da operare o no ok ma che cosa che cosa potrebbe influenzare questi noduli cioè c'è qualche so tale ereditaria o l'alimentazione che cosa potrebbe incrementare l'alimentazione un tempo si diceva c'era molto rapporto tra l'insorgenza del nodulo alla tiroide il gozzo in generale e il consumo dell'iodio cioè del sale ok oggi forse un po di meno perché l'alimentazione comunque è stata abbastanza equilibrata con l'apporto sapendo con l'apporto dell'iodo ma i noduli nella maggior parte dei casi un piccolo percentuale può avere un rapporto ereditario ma nella maggior parte dei casi no in alcune forme soprattutto le forme tumorale potrebbero avere dei rapporti con l'irradiazione a livello del collo cioè osserviamo soprattutto nei pazienti nei pazienti che nel età infantile hanno fatto il la terapia irragiante a livello del collo per un tumore soprattutto i linfomi le leucemie così che hanno fatto una terapia a livello della regione anteriore del collo le radiazioni hanno ricevuto le radiazioni nella regione anteriore del collo l'insorgenza di questo nodulo generalmente questi pazienti di solito sono sotto controllo per cui appena si osserva la comparsa di queste nodule doverò essere indirizzato verso un servizio di endocrinologia essere approfonditi la natura dei noduli i noduli non sono tutti tumore dobbiamo partire dal fatto che la presenza di un nodulo alla tiroide non vuol dire presenza del tumore alla tiroide per cui noi dobbiamo discernere tra quelli che sono tumorale e quelle che non lo sono e questo è il ruolo di solito del servizio di endocrinologia che attraverso una serie di esami strumentali e di laboratorio riescono a distinguere tra i noduli che andrebbero operati e quelli che si dovrebbe tenere sotto controllo come comunque quelle che si può trattare con con terapia conservativa ecco ma nel caso per esempio di ingrossamento della tiroide oppure nel caso di di aumento di peso diciamo la tiroide interessata sì e no cioè nel senso non è detto che ci sia un rapporto causa effetto tra l'ipotiroidismo e di aumento di peso c'è però si può avere un paziente essendo la tiroide un ormonica un'attività metabolica importante l'ipotiroidismo importante può portare a un aumento del peso per una riduzione del metabolismo di base ma non vuol dire che l'aumento di peso sia legato alla alla ma l'ingrossamento della tiroide deve sempre preoccupare assolutamente sì nel senso se se compare un ingrossamento a livello del colo perché questo è il problema cioè una persona si ritrova con un nodulo al colo quello deve andare da un medico cioè dovrebbe indirizzarsi verso un servizio di endocrinologia dove questi noduli devono essere studiati approfonditi quindi ripeto ci sono l'ingrossamento della tiroide può essere legato a diversi tipi di patologie ok quelli che a noi da punto di vista chirurgico interessa sono quelle che dovrebbero essere indirizzate alla chirurgia una buona parte di quei pazienti non saranno mai operati ma sicuramente chi ha il nodulo alla tiroide che può essere il 10% dal 5 al 10% si calcola circa il 5% di quei pazienti sono tumorali gli altri vuol dire che gli altri 95% non lo sono e quindi bisogna riuscire a distinguere tra un caso e l'altro a fare una differenziazione tra chi dovrà essere operato e chi non dovrà essere operato ci sono degli esami specifici che vanno effettuati, gli esami del laboratorio all'ecografia, all'ago aspirato, alla scintigrafia e così via con questi esami soprattutto con l'ecografia e l'ago aspirato noi di solito riusciamo a fare la diagnosi precisa o a meno a dividere il paziente e a distinguere quelle che dovrebbero essere inviate alla terapia chirurgica in qualsiasi caso c'è sempre una via d'uscita giusto? assolutamente, va detto che il grosso vantaggio i tumori della tiroide hanno questo aspetto positivo di essere tumori non particolarmente aggressivi nel senso che la sopravvivenza dei pazienti a lungo termine, quelli sottoposti a terapia chirurgica e a terapia post-operatoria nelle case in cui fosse necessario hanno una sopravvivenza buona ci sono delle forme tumorali molto aggressive che quelle devono essere tirate fuori da questo gruppo e inviato verso altre terapie va bene, per altre informazioni naturalmente le persone possono rivolgersi a lei vuol dirci il nome della sua struttura? lavoro in Fondazione Maugeri di Pavia adesso istituti Maugeri di Pavia va bene tutto, grazie Giuseppe Criseo, vai se a presto grazie a tutti